Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Can you hear the three windows? Sì, ieri sera il Katowicz Royale, evento davvero super importante, vi spiegherò un pochettino quello che è successo e come sono andate le classifiche. Parleremo di nuovo della seconda chance ragazzi, quella che è stata recuperata insieme al camioncino nuovo nella mappa che forse già sapevamo ma non c'eravamo resi conto. E anche ovviamente non posso menzionare quello che abbiamo visto nello shop di ieri, la skin reflex della Nvidia, del bundle Nvidia, ma vi darò delle dritte perché sembra che arriverà un stile esclusivo per chi ha acquistato la skin con la scheda grafica Nvidia. Vi ringrazio però ragazzi a tutti per utilizzare il mio codice CREATOR XIUDERONE, grazie mille per il mega supporto, vi voglio bene, non dimenticatevi di iscrivervi al canale in tantissimi e soprattutto... attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live. Ma prima ragazzi, prima la domandina, ve la devo fare, ve la devo fare la domandina, mi raccomando i vostri commenti, le vostre risposte qua sotto. Dai ragazzi, domanda molto easy, quale delle due nuove location preferisci? Qual è che vi piace di più ragazzi? Il porto dove c'è la nave? Lesi Lagoon in inglese? Oppure il San San Zragal? Insomma la città dei Maya ragazzi? A me personalmente piace la spiaggia, l'Esi Lagoon, tanta tanta roba, mi piace tantissimo quel veliero che spero rimanga anche per le future season e anche tutto il porticciolo, è veramente tanta tanta roba. Ma quindi, ciancio alle bande, se il microfono sta qui e bando alle ciance, andiamo subito subito a vedere molto velocemente questo schema che è super interessante ragazzi. Questo è uno schema che ci dà delle indicazioni più o meno ai livelli in cui sbloccheremo le fasi delle skin. Quindi vediamo molto velocemente che a livello 14 arriva la seconda fase del cuore nero, a livello 19 si sblocca il piccone della skin, ibrido a livello 26, terza fase del cuore nero, livello 31, seconda fase di ibrido. Livello 35, ma vi posso dire che io al 34 in realtà ho sbloccato la quarta fase di cuore nero e poi comincia a salire. Livello 39, ibrido diventa veramente super figo, livello 43, il piccone di cuore nero e via via ragazzi, fino a raggiungere il tanto ambito backpack. 320.000 punti esperienza per quel timone spezzato che completerà quindi il set di cuore nero. Tanta tanta roba, anche questa informazione. Ma andiamo avanti e facciamo un attimo chiarezza su quello che è successo nello shop di ieri. Anche io non ci credevo, è uscito il set del bundle Nvidia. Allora ragazzi, ha suscitato ovviamente polemiche assurde da parte di tutta la community di Fortnite. Ci tengo a precisare che se andate a vedere ragazzi nella descrizione delle schede grafiche che regalavano questa skin, non c'è scritto da nessuna parte che la skin è esclusiva. Cosa che invece è successo per il Galaxy, che è successo per la skin Ion, quella di Xbox, oppure per quello di Nintendo Switch, che non mi ricordo bene il nome, le skin che ci davano con le schede grafiche non erano esclusive. Quindi dovevamo aspettarci che sarebbero uscite nello shop. Ma ragazzi, vi faccio vedere un'immagine. Casualmente, dopo poco, è trapelata. Quell'immagine che sto per farvi vedere e sembrerebbe... Sgadabangara Dingin! Sembrerebbe che questa possa essere una versione che verrà data a chi la skin l'ha ottenuta acquistando una scheda grafica. Non sappiamo altro. Per il momento io vi faccio vedere quello che scopro. È davvero molto molto bella la skin reflex fatta così. Mi piace quasi di più della versione che siamo abituati a vedere. Quindi ragazzi, staremo a vedere se ci sarà davvero oppure no questa skin che vi ho appena mostrato. Ma andiamo avanti e parliamo un secondo anche del mega evento del Catwitch Royale. Ne avevamo già parlato un paio di settimane fa. Poi ovviamente con l'arrivo della Season 8 ci siamo un po' persi via. L'evento si è concluso ieri nel tardo pomeriggio, ragazzi. E il vincitore, intanto è durato due giorni, c'era un monte premi da 200.000 dollari, è suddiviso sia nelle sessioni in singolo che nelle partite in duo. Arriva primo, ragazzi, Winix che si porta a casa con 319 punti, 20.000 dollari. Tanta tanta roba. Abbiamo anche un'altra, poi sono un sacco di altri giocatori super forti. Abbiamo Funk Bomb dei FaZe e abbiamo, ragazzi, alla posizione numero 21, un team Motor. Uno dei membri del team Fnatic, ovviamente sappiamo tutti, il team del nostro powerone nazionale. Quindi, ragazzi, si classifica alla ventunesima posizione e per un soffio non prende 1000 dollari. probabilmente hanno deciso, siccome i punti sono uguali, che si contavano le kill. Quindi tanta tanta roba anche per questo evento che è andato via come il vento, ragazzi. Così un po' come il Secret Skirmish. E adesso aspettiamo aprile per il mega enorme assurdo evento della World Cup Royale. Quindi la Coppa del Mondo di Fortnite. Non vi preoccupate, ne avevamo già parlato. Vi aggiornerò quanto prima. Andiamo avanti, invece, ragazzi, guardate questa immagine. È leggermente coperta dal mio logo, ma il retro del van, quindi del camion, che sembra ce ne sia più di uno nella mappa, nasconde un oggetto che in realtà già avevamo scoperto, se non ricordo male, in una schermata di caricamento delle season precedenti. Azzarderei a dire la scorsa season, ma non la ricordo molto bene. Ne ricordo, invece, benissimo il rapace che viene... Che chiede aiuto, ma viene inghiottito dalla tempesta. Beh, sopra là, invece, ragazzi, c'è lo stesso identico oggetto presente sul camion. E come vi dicevo, questo furgoncino, ragazzi, è quello della seconda chance. Quindi potremmo far respawnare un nostro membro del team. Ve ne parlerò, ovviamente, nel dettaglio, probabilmente dalla prossima patch, quando ne sapremo di più. Chiudiamo l'argomento di oggi parlando della skin iconica, ragazzi. Insomma, questa sì, che invece è una skin esclusiva, si otterrà, lo sapete benissimo. Insieme all'acquisto dell'S10+. Beh, ragazzi, guardate un pochettino che abbiamo pescacciato in giro anche il balletto. Intanto la skin la vedete lì. E quello che sta facendo la banana in questo momento è il balletto che verrà assegnato alla skin. E che probabilmente potrebbe essere il primo balletto ufficiale esclusivo. Quindi un balletto che in realtà non uscirà mai nello shop. E sarà disponibile solamente per tutti i possessori di questa skin. Beh, ragazzi, che dirvi? Questa Season 8, lentamente, ci sta già portando alla seconda settimana. Che arriverà davvero tra pochissimi giorni. Mi raccomando, ragazzi, vivetevela a pieno. Sapremo molto di più anche della mappa del tesoro. Non vedo io stesso l'ora di scoprirne un po'. Per il momento però vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Codice supporto Xuderone. Noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao! E non parte mai l'altro. E non parte mai l'altro.